Il 3 marzo sarà la sesta giornata mondiale dei difetti congeniti. Chiaramente è una giornata che vuole in qualche maniera sensibilizzare l'opinione pubblica e anche le istituzioni su quello che sono i difetti congeniti. Da un punto di vista descrittivo, i difetti congeniti, diciamo, in maniera molto semplice, sono le malformazioni, i difetti strutturali dell'organogenesi. In realtà, però, agli difetti strutturali, quelli che, ripeto, comunemente sono definite malformazioni, vanno anche aggiunte dei difetti che non sono visibili ma che sono altrettanto importanti. Penso alla sordità, penso alle malattie metaboliche. Se sommiamo tutti questi due componenti, arriviamo sicuramente a oltre al 3% di tutti i nati. Per cui si può calcolare in un paese come l'Italia, che circa 400 bambini ogni settimana nascono con questo tipo di problema. Ecco, e come incide sulla mortalità e nati mortalità? Sicuramente è un problema estremamente importante quello dei difetti congeniti. Si calcola che, in qualche maniera, un bambino su quattro che muore nella prima settimana di vita abbia un difetto congenito. Ma forse è ancora più rilevante il peso che i difetti congeniti hanno nei primi tre anni di vita sui ricoveri ospedalieri. Probabilmente sono fra la terza e la quarta causa dei ricoveri ospedalieri. Ma si possono prevenire i difetti congeniti? Bella domanda. Allora, sicuramente si può fare qualcosa. Si può fare qualcosa già in periodo preconcezionale. In pratica, anche se è poco romantico, i genitori dovrebbero arrivare preparati alla gravidanza. Per cui agire soprattutto su quelli che si chiamano gli stili di vita. Una mamma, ma anche un papà, dovrebbero, nel momento in cui pensano di mettere al mondo un figlio, dovrebbero iniziare a non fumare, a non bere, ad assumere i farmaci solo quelli prescritti dal loro medico curante e in qualche maniera andare a trovare il medico prima della gravidanza. Le faccio un esempio. Se una donna in sovrappeso dovrebbe diminuire prima della gravidanza. Se una donna assume un farmaco per un determinato problema, dovrebbe concordare con lo specialista qual è il farmaco meno tossico per il futuro bambino. Capire con il medico di base se da un punto di vista infettivologico è protetta già per tutte le malattie, penso alla toxoplasmosi, penso al citomecola virus, che in qualche maniera possono interferire perché andrebbero ovviamente controllati in gravidanza e vaccinarsi eventualmente per quelle prevenibili con la vaccinazione. Ecco perché ricordiamolo, la maggior parte delle donne per esempio non si vaccina sulla pertosse. La maggior parte delle donne non si vaccina per la pertosse. Qui c'è una scappatoia che abbiamo visto che è altrettanto efficace. Sarebbe meglio farla prima, ma si può farla anche durante la gravidanza. E quindi sì, anche per esempio la vaccinazione anti-influenzale in gravidanza? La vaccinazione anti-influenzale in gravidanza è fondamentale, sì, sì, sicuramente. Il virus in gravidanza possono effettivamente essere causa di difetti congeniti. Quando una donna può inserire l'acido folico in gravidanza? Diciamo prima della gravidanza, quanto tempo prima? Certo, certo. Allora, qui dobbiamo dire una cosa. C'è il mito della dieta mediterranea. Si è sempre detto, fino a una quindicina d'anni fa, che la dieta mediterranea effettivamente contiene una quantità di acido folico estremamente superiore rispetto alla dieta tipo dei paesi del Nord Europa e degli Stati Uniti. In realtà abbiamo visto che anche la dieta mediterranea deve essere supplementata con 0,4 mg di acido folico di E. Come dicevo poc'anzi, però, questa misura deve essere attuata nel momento in cui i due genitori pensano di mettere a mondo il figlio, per cui già in epoca preconcezionale. Ma una donna che non assume acido folico, ecco, il bambino che danni potrebbe avere, cioè senza questo apporto? Ma qui abbiamo semplicemente dei dati epidemiologici. Si è visto in maniera molto evidente che l'assunzione, nei termini che ho detto, di acido folico diminuisce in maniera considerevole la nascita di bambini, prevalentemente con i difetti del tubo neurale, sarebbe il mio nomine gocele, la necefalia, la spina bifita, le cardiopatie congenite e la paratoschisi.